...le altre ma siamo alle ultime due e quindi alla composizione definitiva del podio della volta di Beatrice Callegari della Zeus Lab Montebelluno fa parte della Marina Militare e questo è il monologo della felicità di Roberto Benigni su note sempre di Luigi Einaudi nuvole bianche è stramodula addirittura all'interno dello stadio sicuramente una delle caratteristiche dei punti di forza di Beatrice è il suo controllo e l'altezza degli abitamenti e anche la magistrale esecuzione di questa prima parte di gambe che abbiamo visto dell'avvitamento conclusivo della prima vasca c'era veramente un scontro diretto tra Francesca e Deide che abbiamo visto proprio scendere in acqua prima di oggi la prima di Beatrice nel programma libero per l'ingresso in finale quindi il punteggio ottenuto solo nelle fasi di eliminatori 89 per tutte e due il livello di ingresso qualche decimo in più aveva sicuramente in tasca Deida per assicurarsi la seconda posizione un bel abitamento combinato eseguito con grande cura grazie a tutti una bella esecuzione una bella interpretazione anche per lei difficoltà nel provare con costanza le ruote